Oggi è venuta a trovarci l'allegra compagnia della Conci Events, siamo all'interno dei nostri studi, è davvero una bellissima sorpresa per noi, un bell'incontro. Voi siete un'agenzia di moda ma non soltanto. Allora noi siamo, come amo definire la Conci Events, una famiglia. Ci occupiamo dei giovani, cullandoli nel loro percorso per quanto riguarda le proprie passioni, che possono essere il canto, il ballo o anche la moda. Ma siamo anche un'agenzia a Ollus che si occupa del territorio e dei ragazzi meno fortunati. Il nostro percorso vorrebbe anche coinvolgere i diversamente abili, affinché vedendo questi giovani che attraverso le proprie passioni portano avanti un sogno, si immedesimano e sognano assieme a loro. Concetta, tu sei la mamma di questa famiglia, sei il focolare domestico, rappresenti davvero un punto di riferimento e lo hai anche detto, per me sono come dei figli. Sì, sono veramente come dei figli e in questo momento sono 100 e seguire tutti e 100 c'è da impazzire, perché chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Però loro mi definiscono il pugno forte dell'associazione. Avete avuto anche grandi soddisfazioni, perché oltre agli eventi che avete organizzato e realizzato un po' in giro per la Sicilia, non soltanto a Gela, arrivano i primi risultati importanti. Avete portato a casa il primo risultato con due ragazze che si sono trasferite in Puglia per lavoro. E dare lavoro a delle ragazze oggi è davvero una grande conquista, soprattutto nel mondo della moda. Sì, infatti io ringrazio Donato e Piero, che fanno parte di un brand a Bari, dove mi hanno contattato per queste due ragazze. Loro sono tranquillissime, stanno lavorando. Io li chiamo 24 ore sopra 24, notte e giorno, perché l'ansia e mi preoccupo magari chissà cosa può succedere. Però in questo momento sta andando tutto bene, stanno lavorando e sono felice per loro. Sono delle opportunità importanti che date comunque ai giovani. Un'opportunità è sempre qualcosa di molto significativo. L'opportunità va accolta, va presa con le pinze, non va affatto il processo alle intenzioni, bisogna giocarsi la carta. Grazie.